Pietro Cambiaghi, punta la porta, Santriano controllo, poi Caputo, non può calciare, poi fuori destro di Marina! Gol splendido, dopo quello alla Lazio, stampa questo destro bellissimo, quasi sotto l'incrocio, 2-0 per l'Empoli, nel momento migliore del Torino! E con la prima rete, il secondo in questo suo 2023, ha tirato fortissimo! Qui Caputo lavora per il destro di Marina, che però viene toccato probabilmente, anzi sicuramente da Schultz, che ne cambia la traiettoria e lascia lì immobile, Bonia Milinkovic-Dovic, 2-0 per l'Empoli! Rimane come una statua, Milinkovic-Dovic, con gli assist per Azman Marin! Ripolla! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.